Una tradizione familiare, quella della vinificazione, che risale al 1600, portata avanti oggi da una giovane, membro del Comitato Provinciale Giovani Impresa di Coldiretti Cuneo. Stiamo parlando di Irene Sciolla, oggi titolare della Cantina Bricco del Cucù, a Bastia di Mondovì, che dopo il diploma al liceo psicopedagogico, si dedica dal 2016 interamente all'antico lavoro di famiglia. L'azienda coltiva 8 ettari di vigneto in una decina di appezzamenti, tutti nel comune di Bastia, e costituiti principalmente dal vitigno del dolcetto e in misura minore da quelli del Merlot, dell'Arnaise e del Savignon. Poi si occupa di 6 ettari di nocciole e di una piccola porzione di terreno riservata alle piante da frutta e all'orto. Da circa dieci anni gestisco l'azienda di famiglia, da quando ho sei anni che ho sempre voluto fare il lavoro di papà. Però quando è arrivato il momento di scegliere il percorso di studi, io ho scelto di fare un altro percorso di studi legato al mondo del calcio, che è la passione che ho sempre avuto. Però finita la maturità, ho fatto la prima vendemmia completa con un'azienda. Il vedere i miei due nonni tra i filari in cantina, cercando di interrogarli su tutti i passaggi che vanno fatti, mi ha fatto innamorare di nuovo di questo mondo e di questo lavoro. Qualche anno fa ho ricevuto l'approvazione, diciamo, per produrre due nuovi vini. Uno è il rosato, un rattato che produciamo qua nella nostra azienda, e l'altro invece è il passito l'anno scorso. Quindi scetticismo generale, perché c'è sempre stato un po' lo scontro generazionale. Bisogna ovviamente bilanciare le cose, l'entusiasmo di noi giovani e avere appunto un consiglio di chi ha avuto più esperienza di te giustamente, però comunque con un po' di fatica ho raggiunto ogni obiettivo. Negli ultimi anni la famiglia Sciolla ha effettuato un importante intervento di ristrutturazione della cascina. Il vecchio portico, infatti, diventa il locale per le degustazioni e la vecchia stalla la struttura per l'imbottigliamento. Ogni fine settimana si effettano degustazioni su prenotazione, con visite all'azienda e alla cantina. Brico del Cucù produce sei etichette, cinque rossi e un bianco, tre sono dolcetti puri, il Languedoc, l'impronta dedicato a nonno Beppe, il Dogliani di OCG, il Dogliani di OCG superiore San Bernardo, di struttura forte e invecchiato in botti di rovere piemontese. Poi ci sono tre assemblaggi voluti per mettere insieme la tradizione e il rinnovamento e con l'etichetteri che riportano altrettanti affreschi della vicina chiesa di San Fiorenzo. Uno è il Languedoc Bianco Livor, che unisce Arneise Savignon, gli altri due sono rossi, il Languedoc Superbum e il Languedoc Diavoli Santi, che mettono insieme Dolcetto e Merlot. La parte vecchia della cantina risale a 1600, quindi muri che trasudano di storia, muri volte in mattoni originali, quindi umidità costante e naturale, visto che dietro i muri in pieta c'è il tufo, la terra tipica qua della Langa, e molto importante appunto per l'affinamento del vino. Qua riposano alcuni vini per circa 18 mesi, prima di essere messi in bottiglia, però per venire a vederla dovete venire fino a qua a Bastia, ma siamo aperti tutte le domeniche, tutti i sabati per tantissime attività, quindi se volete poi prendere parte a qualche attività, qualche iniziativa, seguiteci pure sui social.